Buonasera e benvenuti al nostro approfondimento, vi stiamo facendo conoscere i protagonisti di questa competizione elettorale. Oggi ospitiamo Andrea D'Agosto, candidato alla presidenza della regione Puglia con il partito Riconquistare l'Italia. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, grazie. Allora, lei è un avvocato, esperto di diritto bancario, si occupa di diritto bancario e è la sua prima esperienza politica o no? No, non è la mia prima esperienza politica, c'è stata un'esperienza amministrativa quando ero ragazzo, quando ero molto giovane, quindi avevo una formazione e una coscienza diversa. Questa volta è una cosa un po' più seria, diciamo. Voi vi considerate i sovranisti puri e la prima battaglia riuscita è quella di aver portato appunto il vostro simbolo sulle schede elettorali, ci sarà poi la seconda battaglia che sarà quella di superare la sua legge di sbaramento. Quali sono le prospettive e le aspettative che avete? Senta, la legge elettorale pugliese è una legge veramente punitiva rispetto ai principi al canone di una democrazia popolare, perché vorrei ricordare ai telespettatori che la democrazia è il regime delle minoranze e non è il regime delle maggioranze, come adesso oggi ci vogliamo far credere. Quindi mettere una soia di sbaramento dell'8% per coloro che si presentano con un'unica lista è davvero in sé un principio antidemocratico. Non mettiamo limiti alla provvidenza, però non credo che supereremo la soia di sbaramento. Diceva però che sarà soltanto un inizio, perché sicuramente è soltanto l'inizio di un percorso che continuerà. Senza dubbio, perché la nostra, io amo ripetere, che la nostra è l'unica lista politica, nel senso che propone una visione alternativa al sistema imperante, che è quello liberista, ordo liberista, lo possiamo definire come volete, che trae alimento dal momento della firma dei trattati dell'Unione Europea. Quindi ci troviamo di fronte a liste che si presenterebbero come alternative, centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle, ma sostanzialmente sono correnti dello stesso identico partito liberista. Quindi siccome noi abbiamo una visione assolutamente diametralmente opposta alla loro e siccome è importante sottolineare che la regione è un ente pubblico politico, perché con la riforma del titolo V e dell'articolo 117 la regione ha potestà legislativa, quindi l'avento potestà legislativa è un ente principalmente politico. Avvocato, lei rivendicava un po' il ruolo di fronte sovranista puro per distinguersi anche dagli altri partiti sovranisti. In che senso? Voi intanto prendete le distanze anche dal ruolo dell'Europa e dall'impatto che l'Europa ha sull'Italia, nel senso che le leggi nazionali dovrebbero prevalere su quelle europee? Il problema è che, innanzitutto bisogna intendersi sul termine sovranismo, logicamente una volta introdotto nel dibattito politico da noi, avendo le parole possibilità polisemantica, chiunque se ne può appropriare le può declinare come meglio crede. Nell'accezione pura da noi codificata, più o meno è stato il professor Stefano D'Andrea che è il nostro presidente, a reintrodurre questo termine nel dibattito politico, fa specifico e preciso riferimento all'articolo 1 della Costituzione Repubblicana che attribuisce la sovranità al popolo, quindi in un'accezione assolutamente, declinata in un'accezione assolutamente democratica e popolare, quindi non ha nulla a che vedere con declinazioni di altro genere, nazionalistiche, di destra liberista, xenofobe nel modo più assoluto, anzi in purezza la declinazione di quella che dovrebbe essere il principio di un partito politico democratico e popolare. Quale dovrebbe essere secondo voi il rapporto tra l'Europa e la regione Puglia? Allora, il problema non è tanto l'Europa come continente al quale noi apparteniamo, al quale noi ci sentiamo di appartenere, il problema è la sovrastruttura ordinamentale, cioè l'Unione Europea, cioè sostanzialmente stiamo parlando di trattati, di rapporti, o se le dire di diritto privato tra stati, il problema nasce da lì, cioè all'interno di questi trattati, all'interno di questo sistema ordinamentale sono stati introdotti con la forza e in qualche modo anche in un modo illegale secondo noi, dei principi che sono perfettamente confliggenti con quelli alla base del nostro sistema ordinamentale che è la Costituzione Repubblicana. Il principio della concorrenza o il principio dell'autonomia della Banca Centrale sono principi che, o il principio o no, contrarissimo all'aumento dell'inflazione, sono principi che se osservati attentamente, c'è letteratura scientifica che lo testimonia, favoriscono solo la logica della finanza, quindi del capitalismo finanziario, cioè a dire la possibilità di produrre soldi con i soldi, mentre nel sistema costituzionale italiano, quindi nell'architrave che regge il nostro ordinamento interno, il principio è il lavorismo, quindi la tutela del lavoro e del lavoratore, ed è perfettamente confliggente con questo principio, quindi per questo noi rispingiamo dal punto di vista ideale, sociale e politico, questi concetti che ci sono stati imposti con la forza, e fra l'altro considerati prevalenti rispetto a quelli interni, questa è la cosa ancora più grave. È una posizione ideologica, ma è anche una prospettiva che è maturato dopo anni di lavoro, dicevamo che è l'esperto di diritto bancario. Sì, guardi, ci sono due piani, un piano personale, che penso possa interessare poco agli spettatori, e poi un piano di appartenenza a un raggruppamento, a un partito. Nasce da un'analisi personale, ho cercato di capire, perché è importante raggiungere un grado di consapevolezza, questo grado di consapevolezza è arrivato e dopo la consapevolezza, quindi lo studio, la conoscenza dei problemi, gli approfondimenti, si arriva poi a quella che si può definire una rivolta etica, però dopo la rivolta etica, che è sempre sul piano ideale, cioè l'ingaggio con la realtà, che si fa solo attraverso la politica, mi sono guardato intorno e ho avuto la fortuna di trovare questa formazione, questo partito, c'è il fronte sanitario italiano, che poi esprime la lista di conquistare l'Italia, che è la definizione, il nome che noi usiamo alle elezioni amministrative, e mi sono sentito a casa, e quindi ho detto va bene, allora inizio questa avventura. Parliamo di sanità, è un tema che abbiamo affrontato con molti dei candidati che abbiamo spiegato in questi studi, perché poi è il principale terreno su cui si gioca chiaramente la campagna elettorale, ma anche l'attività amministrativa della regione Puglia, e allora ci soffermiamo innanzitutto sull'epoca antecedente, questa emergenza Covid, e abbiamo, come dire, trasferito ai candidati, dunque lo facciamo anche a lei, un po' delle criticità emerse rispetto alla sanità fino a questo momento, ovvero lunghissime liste d'attesa per la diagnostica, tempi lunghi per gli interventi chirurgici, scarsità di medici e infermieri, ospedali spesso sporchi. Qual è il vostro piano sanitario da cui si misura ovviamente anche, come dire, il progresso, l'evoluzione e l'attenzione al cittadino? Guardi, allora, io vorrei far comprendere che per fare, come dire, un'analisi corretta della sanità pugliese, bisogna innanzitutto capire quali sono i fini che si propone la sanità pubblica pugliese, perché se non conosciamo i fini non possiamo, come dire, valutare i mezzi. Quindi partendo da questa premessa, come dire, io non, vedi, sembrerà strano, non voglio buttare la croce addosso personalmente ai governatori che ci hanno preceduto, perché sono dei ribellisti, quindi come dire, hanno il compito in politico di distruggere la sanità pubblica gratuita pugliese, hanno svolto semplicemente il loro compito e ricollegandoci a quello che gli dicevo prima, che sono correnti di un unico partito, se lei osserva, come dire, l'evoluzione, no, fra la giunta Fitto che ha elaborato il piano di ordine ospedaliero, la giunta Vendola, la giunta che si riteneva di sinistra storicamente, no, e la giunta del dottore Emiliano di centro-sinistra, si sono comportati nella stessa identica maniera. Quindi dove è la differenza politica? Cioè a dire, il filo ruge è la necessità su, come dire, impulso di questa struttura sovraordinata che l'Unione Europea, che è liberista, di distruggere e di eliminare la sanità pubblica gratuita, perché dovemo arrivare al sistema delle privatizzazioni, vorrei ricordare che nel sistema angolo americano la sanità pubblica praticamente non esiste, c'è, ci sono gli ospedali per i poveri, c'è, dove si va a morire, ma chi non ha una previdenza, un'assicurazione personale che ha pagato durante la vita non si può curare. Questo modello potrebbe anche andare bene, voglio dire, per assumere, ma non è dentro un sistema, come dire, sociale come il nostro, ed è contrario alla Costituzione, fra l'altro. Quindi perché dare la colpa a Emiliano piuttosto che a Fitto, piuttosto che a Mendio? Sono semplicemente dei liberisti, hanno fatto il compitino, insomma. Quindi è opportuno comprendere che noi dobbiamo cambiare visione, cioè dobbiamo cambiare i fini. Noi siamo assolutamente per, come dire, recuperare, ampliare, potenziare la sanità pubblica, perché riteniamo che debba essere, ripeto, pubblica e gratuita. Dunque quale sarà il vostro modello di gestione e anche di rapporto tra le strutture sanitarie private accreditate e le strutture pubbliche? Guardi, noi abbiamo, come dire, una linea guida che è quella del controllo pubblico, vuoi dire sempre questa parola pubblico, però se lei osserva e se analizziamo che significa il controllo pubblico, il controllo pubblico è il controllo del popolo. La parola pubblico, che è una parola latina, viene da populus, e ce ne dimentichiamo, mentre la parola privato viene da privatus, cioè qualcosa che ha qualcosa in meno e il concetto di pubblico ha quasi in più e quindi appartiene a tutti e quindi evidentemente noi come visione di lungo periodo, come fine abbiamo quello di ripubblicizzare tutti i servizi essenziali. Io non ho niente contro il privato, ma non è possibile affidare la sanità pubblica gratuita alle strutture private accreditate, che poi costano molto, il privato farà la clinica privata per i ricchi, per l'amor di Dio, ma non può fare la clinica privata pubblica per i poveri o per le persone normali o per il popolo o per tutti, cioè la sanità è un aspetto così delicato della nostra riproduzione sociale che non può essere in mano la speculazione del privato, il privato fa altro, va bene. Dobbiamo tener conto però anche della prima emergenza Covid, ovviamente adesso della seconda ondata epidemica. Allora come è stata gestita in passato, come viene gestita adesso, se è un modello come dire mutuabile anche da voi o no assolutamente? Guardi, io credo che bisogna fare un ragionamento sempre per principi, quindi il principio di massima precauzione secondo noi è applicabile in modo selettivo, mi spiego meglio. Sicuramente questa emergenza è una cosa seria, però non bisogna neanche dramatizzarla. Allora credo che abbiamo capito, perché abbiamo sviluppato un'analisi, un'esperienza, che noi dobbiamo applicare il principio di massima precauzione alle fasce più deboli, cioè quelle più esposte alla morbidità, cioè alla morte se conta con la malattia, che sono le persone anziane, le persone malate e le persone deboli. Quindi loro vanno protette, come dire, un po' isolate. Lo stesso vale per gli operatori sanitari, infermieri, medici e tutto quello che è durato intorno alle strutture ospedaliere. E quindi noi riteniamo che si sarebbe dovuto creare un polo Covid, cioè a dire al di fuori, per esempio al policlinico, secondo noi non ci dovrebbe essere un reparto infettivi dove si portano i malati Covid, perché è chiaro che si creano i focolai, insomma, voglio dire, non è evidente. Questo per proteggere tutto quel personale sanitario, infermieri, medici, amministrativi, che non entrano direttamente in contatto col virus, perché stanno nella clinica di cardiologia piuttosto che in quella di neurochirurgia. Non so se è chiaro. Quindi questo avremmo fatto noi. E bisogna poi rassicurare il resto della popolazione, che chiaramente rispetti le norme igienico-sanitarie, cioè principi scientifici, no? Lavarsi le mani spesso, mettere la mascherina quando c'è un raccorpamento, mantenere un po' la distanza e tranquillizzare le persone, perché se no qui arriviamo a una crisi proprio, come dire, psicologica della gente. Allora, abbiamo ancora un minutino prima di chiudere questa intervista. Beh, io ho 30 secondi una battuta anche sull'agricoltura, che spesso, come dire, ha utilizzato fondi europei, che in questo momento non se la passa benissimo in Puglia. Come gestire anche l'emergenza ansidella? Allora, guardi, vorrei innanzitutto chiarire una cosa tra gli spettatori che non viene detta. I famosi fondi europei sono soldi nostri, perché l'Italia è contributore netto, nel senso che versa più o meno ogni anno 12 miliardi di Euro la Unione Europea e ne ottiene indietro 9. Quindi noi non abbiamo aiuto da nessuno, sono soldini nostri, fra l'altra differenza ha finanziato lo sviluppo dei paesi entrati successivamente nell'Unione Europea. Noi l'abbiamo voluto fare, siamo stati generosi e ci prendiamo pure le parolacce, dicono che siamo spendacioni, vabbè. Quanto riguarda l'axidella, voglio dire, è evidente che il modello Emiliano, ma voglio dire, non voglio fare una colpa al dottor Emiliano assolutamente, ripeto, sul piano personale e il piano politico ha fallito, perché da 230 mila ettari siamo passati a 600 mila ettari. Quindi probabilmente proprio il meccanismo di gestione del fenomeno, che credo sia stato lasciato al privato, cioè ai proprietari, non ha funzionato. Cioè una cosa così delicata dovrebbe essere trattata attraverso un controllo pubblico. E credo che anche dal punto di vista della ricerca bisognerebbe ampliare la possibilità per altri centri di ricerca di studiare il fenomeno e cercare di contrastarlo, che è una cosa molto seria. Siamo in chiusura, appello al voto, si farà tanto di appelli al voto utile in questo momento? Ecco, allora, per quanto ci riguarda e per quanto riguarda, il voto utile è il voto dell'utile che è idiota, nel senso che è il voto dato per non far vincere qualcuno, quindi contro qualcuno. Noi riteniamo che in un sistema democratico popolare il voto vada dato per una scelta precisa del cittadino, cioè ritenere di dare il voto a quelli che secondo lui sono i migliori, quindi la migliore visione, il miglior partito. Diversamente non siamo più in democrazia, siamo in un sistema anche di consumo della politica che francamente è aberrante. Allora, grazie ad Andrea D'Agosto, candidato alla presidenza della Regione Puglia, con il partito Riconquistare l'Italia, grazie per essere stato con noi, ovviamente in bocca al lupo per questa tornata elettorale.